ok cominciamo con bugia innanzitutto facciamo falso falso in bilancio come se i bilanci fossero veri perché tu puoi far risultare che un'azienda è ricca e florida quando non ha una lira in cassa semplicemente giostrando un pochino le voci di qua e di là giusto infatti un buon amministratore deve essere in grado di fare questo non è in grado di rendere l'azienda prospera ma di farla risultare prospera a prescindere falso etimologia latino fal sus participio passato di fallere propriamente far porre il piede in fallo e figurativamente gabbare circonvenire ingannare far porre il piede in fallo quindi farti sbagliare quindi è fare qualcosa che non è conforme a misura giusto possiamo dire che è qualcosa che non è conforme a misura nella fattispecie la sua è falso mettere il piede in un luogo che non è coerente con la tua misura tuttavia il verbo fallere è far sì che qualcuno faccia questa cosa che non risponde al vero la definizione alla realtà erroneo sbagliato fraudolento quindi che non risponde al vero alla realtà naturalmente la coscienza egoista babbana si muove in questo reame il falso giusto com'è possibile questa cosa c'è d'altronde scusate nare allora se ti muovi nel falso vuol dire che anche tu metti il piede lì dove falli giusto o no no invece tu sei conforme alla realtà e fai fare la cagata a qualcun altro quindi tutti escludi dal processo anche tu metti il piede lì in realtà il babbano ha dolo cioè non è per colpa non è che lo fa così lo fa lo fa perché perché sì non puoi trovare una ragione logica a mettere il piede dove ti storti la caviglia giusto ci deve essere un motivatore che è una futilità naturalmente cioè qualcosa che tu non puoi misurare e che non puoi neanche a cui non puoi neanche controbattere perché cosa dici a una persona che non fa entrare un'altra in casa che gli riparerebbe nell'impianto idraulico perché un giorno non l'ha salutata gli ha detto una cosa sbagliata che cazzo nelle varie futilità che ci possono essere e ti dice no è per quello che cosa gli puoi dire dice vabbè ma che cazzo te ne frega l'unica cosa che potresti dirgli giusto ma se ti dice no no io per una questione di principio sembra quasi un qualcosa di onorevole giusto no ma fatto uno sgarbo non doveva mettere la cosa lì allora vaffanculo io non permetterò più a giuseppina dici ma non è che devi invitarla a casa a fare la fumeria doppio deve solo ripararti il lavandino o no quindi io ho una una ragione dichiarata che è una futilità cioè qualcosa di immisurabile non ha nessuna correlazione con l'evento stesso quindi non è che è venuta a ripararmi lavandini dieci volte dieci volte mi ha peggiorato la situazione dici no cazzo giuseppina basta no giuseppini invece ha una storia di riparatore di lavandini assoluta cioè da quando aveva dieci anni ha riparato lavandini e tutte le volte anche quando l'idraulico diceva qui non si può più far niente dovete buttar via tutto lei è arrivata e ha riparato la cosa tuttavia tuttavia è scostumata giusto e io ho uno scostumato a casa mia non lo faccio entrare cosa c'è di falso in tutto ciò domanda del cazzo talmente evidente però per babano non è evidente lo sapete vero perché una parte di dentro dice sì ok ho capito per giuseppina va bene una cagata quella della sigaretta ma se avesse ognuno c'è la sua allora non la facevo comunque entrare in casa giusto ci ha provato col mio fidanzato ha preso il biglietto della lotteria prima di me dicendomi di prendere un caffè e il suo biglietto ha vinto invece dove avrei dovuto vincere io se ero lì a non prendere il caffè quindi mi ha fatto prendere il caffè apposta sono dei costrutti mentali incredibili no dice cazzo suo figlio ha risposto male a mio figlio sto dicendo cose che ho sentito è tra l'altro non quella del biglietto era era una di quelle cose su cui mentana avrebbe perfino fatto ma che cazzo stai dicendo io sto facendo adesso dove c'è una funzione algebrica per comprendere l'idoneità di giuseppina a riparare il mio lavandino ok l'oggetto giuseppina ha messo un ma spento o ci ha provato o suo figlio ha ritigato o quell'oggetto cosa c'entra con l'idraulica quindi l'intera funzione algebrica che parla di giuseppina idraulico dice che è una un idraulico dei miracoli cioè dove va lei le tubature si aggiustano e non si capisce nessuno riesce a capire come cazzo fa e tuttavia io inserisco all'interno di questa funzione algebrica cosa che per qualche ragione io faccio operare insieme all'idraulica riuscite a vedere sto facendo un passo falso io sto facendo un passo falso tu lo inserisci nella funzione algebrica la cosa e per qualche ragione inspiegabile prima quella funzione dava come risultato assoluta riparabilità del lavandino anche se non ha speranza per tutti gli idraulici del mondo però quando c'è giuseppina tac ma io ci inserisco questo fatto completamente scorrelato da quella funzione cioè non c'entra niente lì dentro e per qualche ragione quel risultato cambia per me non ho la non l'ho sperimentato giusto perché se dovessi fare entrare giuseppina mi riparerebbe lavandino quindi io non la devo far entrare e non la chiamo neanche perché nel mio processo decisionale ho inserito questo elemento questo elemento mi porterà a continuare ad avere un problema quindi chi l'ha fatto il passo falso io giusto potresti dire autosabotaggio sì che è la caratteristica del babbano tuttavia dal suo punto di vista di babbano a lui in realtà per quanto affermi se ben vi ricordate che vorrebbe che quel lavandino venisse riparato lui in realtà vuole creare le condizioni per cui questo non avvenga per potersi manifestare il fallo tuo è la gioia sua quindi lui gode e esiste in questo reame reame del fallimento potresti dire per rimanere sempre in credito in realtà è una questione puramente meccanica quello è il modo di disperdere cioè non puoi disperdere con le giuste misure le giuste misure creano e costruiscono e fanno giusto diventano qualcosa solo con una falsa misura tu puoi buttare nel nulla il tutto sì o no questo che cosa implica quindi che il reame operativo del babbano è il falso false late old english intentionally untrue lying ecco qui dice che è intenzionale ci aggiunge dal old vecchio old english of religion cioè relativamente alla religione not of the true faith non della fede vera non in accordo con le dottrine cristiane quindi se la dottrina cristiane dice una cosa tutto il resto è falso giusto? è vero da un certo punto di vista cioè è vero che non è dottrina cattolica cioè se io dicessi questa cosa è dottrina cattolica ma non lo è è falso ma dire che qualunque cosa non sia scritta nella dottrina cattolica è falso è quello che dicono tutte le religioni giusto? in base a che cosa? in base a esperienza? si evoca un intervento divino giusto? che ne so l'ha detto Gesù che nessuno ha mai visto a cui nessuno può chiedere conferma e nessuno ha fatto successivamente all'affermazione tutta una serie di sperimentazioni per dichiararne la logicità giusto? vediamo fake di origine ignota attestato nello slang criminale della Londra come aggettivo come dire qualcosa di contraffatto fake tipo soldi soldi falsi sembrano veri ma non lo sono questa è la differenza tra falso false e fake in inglese verbo è diventato un verbo nel 1812 to rob che vuole fregarti fregare qualcuno e sostantivo nel 1851 è swindle una truffa swindle the great rock and roll swindle degli Sex Pistols avete mai visto il disco? la grande truffa del rock and roll perché loro non sapevano suonare non sapevano cantare e sono riusciti ad arrivare a diventare Sex Pistols hanno chiamato loro stessi the great swindle of rock and roll the great rock and roll swindle una possibile fonte è fig feague non scritto far diventare qualcosa importante in modo artificiale cioè crea un personaggio per esempio prendiamo Marilyn Manson è quasi figurativo guarda è quasi come il marketing adesso ti faccio diventare una rock star una rock star deve portare la croce all'incontrario deve fare così deve andare in giro a dire fuck 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 o un trapper una trap star non so se esistono ma a questo punto vediamo anche il presidente americano cioè io dubito che tutti quelli che sono diventati presidenti americani gli piacesse leggessero la bibbia veramente e amassero le cravate regimental di colore rosso e blu giusto però da presidente ti deve piacere te la devi mettere e devi dichiarare che ti piace è un costrutto in poche parole artificiale dal tedesco fegen polish sweep ripulire lucidare polish e anche vuol dire to clear out plunder e ripulire qualcosa togliergli i difetti adesso vediamo abbiamo visto falso vediamo bugia uno potrebbe dire falsità ma diciamo bugia bugia madonna le lunghe antico francese inganno astuzia quindi un inganno c'è c'è il dolo non è qualcosa di colposo ma è doloso sapete la differenza vero colposo è accidentale cioè non c'è la tua premeditazione colposo c'è la tua premeditazione lo stai facendo sapendo di farlo doloso scopo scusate astuzia ingannare dal basso latino bauscia falsità inganno e in effetti questo vuol dire in milanese c'è il sembra usci sei uno che tutto chiacchiere distintivo cioè millantatore che sembra trarre dall'alto antico tedesco bosa mediante una forma dialettale bausa cattiveria quindi deriva da millantare in poche parole dire qualcosa che non sei quindi affermare non il falso un bauscia è uno che dice di aver fatto o di essere qualcosa che non è ah no perché se quando ero io lì la le cose erano tutte in ordine appoggiare un bauscia queste ci si va che cazzo sta a dirlo giusto cattiveria e questo da bossi moderno cose cattivo guasto qualcosa di andato a male guasto donde boss artig maligno in cui trova taluno la ragione dell'aggettivo bugiardo quindi bugiardo e maligno e d'altronde ci sta anche o no è coerentissimo perché tu stai scientemente dichiarando qualcosa che non è non lo stai facendo per errore lo stai facendo con intenzione naturalmente questo implica un secondo fine giusto in questo caso erano sono dei casi emblematici e diciamo ancora oggetto di studio nel mondo babbano i bugiardi compulsivi non so se ne avete mai sentito parlare un po come la cleptomania bene quindi cattiveria malignità noi desideriamo vedere perché esiste la parola bugia e quindi dove viene concepito il dolo nell'azione e il secondo fine che è coerente con la bugia stessa c'è io ti sto dicendo questa cosa per farti fare quella cosa giusto ok che però non ti ho dichiarato bene mentire tardo latino mentire mentire derivato di mens mentis mente da prima col significato di immaginare poi fingere e quindi mentire cioè a dire il falso etimo da mens mentis spirito immaginazione perché mentire propriamente dir cose inventate immaginare qualcosa di falso inventare dire il falso è come un millantare a questo punto giusto quindi mentre la bugia ha la connotazione e anche l'hai ha la connotazione di farti cadere lì dove tu non dovresti andare quindi farti fallire farti mettere in fallo farti vacillare diciamo così intenzionalmente mentire è un costrutto è un costrutto fantastico che naturalmente dovrà avere un secondo fine e così via e così scorrendo comunque qualcosa che non è accaduto non è reale e quindi lo sto costruendo artificialmente ma non ha come caratteristica quella di farti cadere in fallo in poche parole io potrei raccontare che ne so a giorgino che sono stato sulla luna e cazzo quando è arrivato a armstrong ero io lì con la videocamera e così almeno spieghiamo come mai l'hanno ripreso mentre scendeva è il big cameraman che è acceso per primo e gli dico ero io no e tu dici eh sì eri tu ho detto ma non hai visto che c'era uno che lo riprendeva lì secondo te chi era? eri tu? eh o però ma hanno fatto giurare di non dirlo io te lo sto dicendo a te ma attenzione mi raccomando eh ti sto facendo fallire cioè qual è la ehm sto cercando di farti cadere a te no lo sto dicendo sempre con un falso scopo per ragioni ignote e tutto il resto a te non cambia un cazzo eh che tu ci creda o no nel senso che cosa mai ti potrebbe cambiare e basta quindi me lo sto inventando in poche parole ehm questa definizione e questa e quindi l'origine della parola appunto viene dalla mente e quindi possiamo immaginarci che chiunque abbia inventato questa parola abbia detto se una cosa è qui e non è qui è falsa giusto? cioè non è reale e poi siamo arrivati alla new age dove ci hanno detto che la mente mente giusto? come se fosse un un virus che ci hanno installato dentro certo che l'ignoranza che c'è dietro tutto ciò è gargantuesca uno direbbe perché? perché cioè sappiamo benissimo e possiamo rilevare che se non ci fosse la mente noi non potremmo neanche percepire la realtà giusto? e dici vabbè ma cazzo e quando vedo cose che non ci sono e dici la mente ti mostra qualcosa in base a ciò che tu sei e poi il fatto che le vedo io e non le vede qualcun altro implica che non ci sono e così via e così discorrendo anche immaginare che dai new age anni post post psicotropi a quant'altro no? hanno detto in mago i mago no? e tutte queste cagate qua e tutto cioè come se fosse una parola magica no? immaginare stai evocando che cosa? come fai a creare dati dal nulla poi? quindi abbiamo visto e adesso in teoria dovremmo anche sapere che quando entri in risonanza con qualcosa il sistema senziente che è coerente con l'intera linea ti mette davanti anche una serie di alternative giusto? ma sei tu che stai interrogando quell'oggetto un po' come dire io voglio sapere voglio vedere questa cosa te la fa vedere poi ti dice queste sono le altre le alternative a questa cosa e ti mostra anche quelle trovatemi un'istanza in cui vi è stato dato un impulso e la mente non vi ha portato delle alternative o delle possibili vie di utilizzo di quella cosa non ve le ha evocate secondo voi la mente le ha costruite le ha costruite lei? cioè in un rapidissimamente ha deciso di romperti il cazzo e di farti vedere delle cose che non ci sono oppure diciamo così accedendo quel dato in quell'indice temporale ha richiamato anche gli elementi coerenti con quell'indice temporale è possibile? e quindi i dati erano già lì e tu li vedi, li percepisci giusto? quindi in teoria mentire non era una brutta parola all'inizio lo è diventato quando per qualche ragione uno ha detto vabbè ma cazzo lo vede solo lui e quindi vuol dire mi stai dicendo qualcosa che non esiste ma che soltanto tu in cui soltanto tu credi giusto? quindi potrebbe anche non esserci dolo sto parlando sempre dell'origine della parola e non del suo vero significato cioè potrebbe essere in buona fede mentre la bugia non lo è la bugia è dolosa il mentire potrebbe non esserlo e comunque non ha uno scopo pernicioso di per sé cioè non è un non lo sto dicendo per farti cadere in fallo lo scopo potrebbe essere quello di farti credere che sono qualcosa che non sono giusto? quindi per esempio un politico che dice qualcosa per essere eletto sta mentendo o no? non sta dicendo una bugia perché non sta cercando di mettere me in fallo lui vuole essere eletto quindi vuole semplicemente far dire no guarda che sono un bravo ragazzo io eh? tu dici sì in quel modo mi fa anche del male giusto? è vero hai ragione e quindi quello tuo sguardo perplesso lo condivido qui diciamo che c'è una piccola area di sovrapposizione ma l'intenzionalità del fare a te del male non è così l'intenzionalità del farti votare me che sono incapace invece di uno che è capace sì è come decidersi se il politico mente o dice delle bugie boh sta di fatto che qualunque di queste cose non è conforme alla realtà ovvero non è proprio così perché mentire secondo la sua etimologia originale invece potrebbe descrivere una realtà che l'ascoltatore non comprende giusto? e quindi per l'ascoltatore che non comprende quella realtà diventa una menzogna che cosa interessante vero? come funzionano i processi mentali? ah chiedilo a un Nobel della psichiatria e ti dirà boh spero perché se non ti dice boh il Nobel vuol dire che lo danno veramente a chiunque in effetti il fatto che io percepisco qualcosa e la mente me lo mostra che tu non percepisci e quindi la tua mente non te lo mostra non implica necessariamente che quello che sto vedendo io non è coerente ma neanche che tu sei deficitario la mente mi mostra qualcosa che attinenza ci vediamo col fenomeno della paranoia per esempio la paranoia classicamente trasforma un evento in qualcos'altro giusto? vedo una persona non mi saluta o gira lo sguardo quando io sto passando l'ha girato perché ha avuto uno strappo al collo perché cazzo gli è venuta in mente una cosa per varie ragioni era immersa nei suoi pensieri quindi non mi ha neanche visto quindi io non sono neanche il punto cioè non faccio testo nel suo movimento non è incluso nella funzione algebrica del suo movimento il mio passare da quella parte tuttavia io vedendo quell'evento gli do un significato cioè tu non mi hai salutato non mi hai voluto salutare sono passato e hai girato la testa dall'altra parte cosa ti ho fatto? oppure allora è stato lui che oppure ah cazzo gli hanno detto che io ho detto tic e tac no? no fenomeno della paranoia dall'evento era palese questa cosa? no potevano esserci un milione di ragioni per cui io ho girato la testa o quella persona ha girato la testa giusto? e tuttavia l'osservatore cioè la persona in questione è convinta che sia accaduta quella cosa come possiamo chiamare questo? perché si sta riferendo esattamente a quell'evento che cosa ha fatto quella persona? ha reinterpretato quell'evento giusto? gli da un significato all'interno perché all'interno del contesto ci inserisce un elemento che non c'entra un cazzo con l'evento stesso che potrebbe essere cosa? gli hanno detto che ho fatto un esame falso per dire no? quindi c'è di fondo una mia percezione di mancanza per esempio in questo caso giusto? neanche Giorgina mi ha salutato quel giorno quindi vuol dire che aderisce al punto di vista di Stefanello che ha detto questa cosa Giorgina in quell'evento non c'entrava un cazzo in quel momento aveva i cazzi suoi oppure io stesso l'ho causato per esempio mi approccio a te e ti dico faccio così no e giro lo sguardo e tu lo giri giusto? magari tu ti stai dicendo boh avrei i cazzi suoi o no? però poco dopo mezz'ora dopo racconto e dico no perché anche Paolo non mi ha salutato quindi vuol dire che anche Paolo sa sono stato io a non farlo per primo giusto? a fare la che tu hai di riflesso non sei venuto lì con entusiasmo ad abbracciarmi e di conseguenza tu sai o anche tu la pensi così cosa è successo in questo caso? è vero che tu mi hai salutato così però io ho messo un dettaglio io per primo quando ti ho visto ho girato la testa dall'altra parte quindi tu non mi hai salutato giusto? ma visto che tu non mi hai salutato e hai girato la testa dall'altra parte tu non mi hai salutato io ometto di dire sono stato io che sono arrivato lì ho girato la testa dall'altra parte perché anche se faccio così io mi aspetto che tu vieni lì e mi abbracci o no? come fai di solito quel giorno però non l'hai fatto in questo caso se io dovessi interrogarti ma Paolo è vero che quando? è ieri pomeriggio eravamo lì in pausa e tu hai girato la testa dall'altra parte ma facciamo finché faccio il consulente e tu dici ma veramente ho visto che aveva c'era la faccia un po' così e tutto stavano per i cazzi suoi e non ho voluto disturbare lo so in quel momento secondo te quella persona è soddisfatta? no? pre c'è sì vabbè sai tu sai cioè non la sposti da lì la sposti da lì? come lo vogliamo chiamare questo? perché tu ti sei sei convinto che tutti sanno quella tua cosa e che quindi si comportano di conseguenza quindi ti guardano storti e tutto il resto ma in realtà sei tu che camminando c'è una faccia di un certo tipo e uno non dice ma mica questo è meglio non avvicinarsi perché sennò mi magna e però non ti ho abbracciato giusto? possiamo fare un miliardo di altri esempi? già è mentire sta venendo nella mente mi sono costruito io un filmone secondo la definizione di mentire ci siamo diciamo che non l'ho costruito ad arte ovvero io sono convinto che sia così però lì non è specificato che è fatto ad arte quindi non c'è il dolo giusto? non essendoci dolo la definizione potrebbe calzare non vi siete mai spiegati questo fenomeno? cioè vedere un movimento e interpretare ogni gesto a conferma del fatto che io sto camminando su marciapiede la mia ex su un altro giusto? e adesso ho una non ex cioè una una o un ex quello che è insomma no? cosa succede? in che senso? con lei no? e la vedi col binocolo in che senso? adesso dimmi che per caso tu sei qui e lei è là adesso ditemi che sono argomenti che non che vi sono così alieni giusto? sono alieni no? cioè vi siete messi d'accordo che passava di là no? ho visto che si voltava dalla tua parte c'erano un miliardo di persone che aveva corso Buenos Aires quindi c'era pieno di gente però è passata di là solo tu te ne sei accorto o tu te ne sei accorta a secondo dei casi che cosa ho fatto? si dice mi sono fatto un film e quindi sto mentendo a me stesso naturalmente perché io sono convinto di questo poi cerco di imporre la mia convinzione anche a te in questo caso dovessi dimostrare che non c'entra un cazzo secondo voi e che magari era un sosia quello cioè proprio ci assomigliava ma non era quello e porto la foto con la scheda della polizia secondo voi presentato alla persona cosa risponderà? ah cazzo scusami no? eh vabbè è reiterato questo o no? cioè io non voglio non voglio cambiare idea non me ne frega un cazzo cosa mi puoi far vedere è così come dico io e in più mi sento pure di merda perché sono convinto che c'era la Tresc la Corte in Tann e quindi ho detto guarda che alle 14.07 io passerò dal colso Buenos Aires tu passa a 40 metri di distanza e facciamoci un cenno ma perché? beh però bella complessa no? come organizzazione vi ricordate che una volta avevamo avevamo visto un fenomeno interessante tanto tempo fa l'avevamo visto che quello del se non trovi una metà che ti completa perché sei in mezzo al deserto e non c'è gente madre natura farà il lavoro giusto? quindi in qualche modo la tua forma si completerà giusto? in questo caso la paranoia è un fenomeno molto interessante perché a prescindere dall'evidenza la metà la metà si deve completare quindi il mio stato deve completarsi in quel modo e quindi vediamo un nuovo evento che è quello che io stesso completo la forma attraverso la funzione dell'immaginazione o del mentire io creo quella circostanza dentro di me prendo degli elementi che ci sono e li ridefinisco perché possono confermarmi quella cosa interessante perché se non c'è se la cosa non deve accadere la cosa non è madre natura non completa un cazzo lo faccio io cioè in qualche modo quella cosa deve essere così non ci sono cazzi tuttavia è mentire questo? stai mentendo a te stesso no? però la funzione è quella secondo definizione naturalmente non sto dicendo secondo l'uso comune della parola perché nell'uso comune della parola è un sinonimo di bugia la menzogna ma non lo è ha un'attinenza ma manca il dolo anche in questo caso potremmo dire che manca il dolo perché io non è che so che non è così ma sto cercando di convincere te che è così io sono convinto che è così e non voglio perdere questa convinzione non la voglio perdere assolutamente perché risaliamo a una cosetta che avevamo visto anche oggi che si chiama debito e se riuscite a comprendere esattamente questa meccanica vi cambia la vita dico a tutti quelli che sono hanno tendenze paranoiche cioè tutti i babbani più o meno chi più chi meno chi in un modo chi nell'altro ah no pippo ce l'ha con me di solito è tipo il capo ce l'ha con me vai da pippo e dici scusa ma perché ce l'hai con Pluto dici ma chi è Pluto potresti dire ok va bene vai da pippo e diceva pippo che Pluto cioè Pluto va che pippo non sa neanche chi sei eh sì non sa chi sono perché quella è quella è quella volta e ti dice tutte le circostanze in cui è evidente che sa chi sei torni da pippo e dici ma scusa Pluto dice che ma presentamelo secondo voi dopo tutte queste cose qui perde la cosa il nostro Pluto ma se dovesse essere chiaramente così cosa farà Pluto troverà qualcos'altro giusto perché ha un debito che cazzo di debito posso avere questa è una cosa che uno deve cercare dentro di sé c'è una mancanza per cui tu te l'aspetti è un po' come aver paura che arrivi l'agenzia delle entrate alla tua porta sai che non hai pagato le tasse giusto se tu le hai pagate tutte o ti arriva lo stesso la cartella se avete pagato tutto e avete anche pagato di più vi arriverà una cartella comunque e quindi l'agenzia delle entrate diciamo in un mondo ideale sei in un mondo ideale e tu hai paura dici bussano la porta e fai così perché e hai paura di andare a vedere allo spioncino giusto e magari vai piano piano a vedere chi è perché comunque vuoi sapere chi è ma lì dietro secondo te c'è l'agenzia delle entrate o chi cazzo ne so perché perché hai un debito giusto nella fattispecie che cosa accade l'elemento ha bisogno di sopravvivere quindi lui cerca di essere guardato di essere visto quella parte lì quello che cerca di fare questo e quindi quell'evento deve essere così poi si innesta anche l'altra cosa con l'evidenza che non è così ci faccio una figura di merda se ammetto di aver fatto una cagata giusto e confesso a quel punto implicitamente di essere un allucinato e paranoico o no piuttosto che fare quello continuo a sostenere l'insostenibile quindi secondo me è così basta finita quindi è completamente contro sopravvivenza o no e quindi perché? rimane lì è la domanda che uno potrebbe fare qualunque babbano perché fai una cazzata e la continui a fare perché dal suo punto di vista non è una cazzata è una ragione di vita è ciò che ti fa esistere finché un giorno tu inserisci questa caratteristica in ciò che tu sei fa no perché io sono fatto così no per esempio se tu dovessi dire sì però non ha questo significato quel programma non può più girare giusto? e lui invece vuole girare e quindi attraverso una sequenza appunto di algoritmi funzionali perché possa fare questo deve cambiare la semantica di ciò che sta guardando e assegnargli dei valori che non c'entrano un cazzo con il valore oggettivo e tuttavia soddisfano la mia esigenza quindi se io sono un debitore devo pagare in qualche modo il creditore mi insegue avrò sempre paura che il creditore sarà davanti alla porta giusto? è una paura irrazionale o no? anche perché sia debito che credito sono molto opinabili cioè quello che io chiamo debito o credito sono delle cazzate giusto? un esploratore potrebbe mai formulare un debito o un credito su qualcosa? cioè potrebbe a quale pro? cioè cosa significherebbe un po' prostituirsi o no? tipo io aiuto la vecchietta perché mi aspetto che poi la vecchietta o i miei fan dicano questo è una forma di prostituzione e ovviamente c'è un secondo fine o no? se io dico tu hai mosso la testa per un altro scopo sto rivettorializzando quel movimento in modo tale che sia coerente con lo spettro che io gli voglio assegnare non posso assegnare uno spettro afflitto a un movimento casuale o no? quindi non deve essere casuale lo vedete quanto è complicato questa operazione? è una complicazione incredibile e ti assorbe una marea di potenza la potenza cioè viene proprio prosciugato risultati somatici ti sentirai molto stanco spossato stressato risultati psichici bo 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 giusto? è mentire però ci siamo? vedo ciò che è e lo trasformo in ciò che non è è mentire questo? secondo l'origine della parola l'assonanza con mentire c'è quindi la paranoia è l'atto di mentire a se stessi guidato da che cosa? uno dice dalla paura ma perché c'è la paura lì? perché c'è un debito quindi io ho la percezione di un debito vogliamo risalire ancora un pochino più in là? quel debito è stato creato ad arte da quell'engramma che aveva bisogno di qualcosa per poter svolgere la sua funzione per poter esistere e l'avrebbe creato a prescindere dalla realtà cioè ha bisogno di interpretare quella cosa in quel modo perché ci sia un debito quindi un vuoto che poi ha bisogno di essere saldato per questa ragione avevamo fatto debito e credito è la meccanica con cui viene creata la frizione creo un credito quindi affermo di avere un credito con Giuseppina vaffanculo Giuseppina e mi seguo le gambe o agisco secondo debito e mi seguo comunque le gambe da una parte gli sto facendo un dispetto a Giuseppina no Giuseppina non gliene frega un cazzo perché essendo una professionista miracolata cioè una di quelle che fa è miracolosa fa i miracoli giusto? cioè gli impianti idraulici le arriva dentro e in qualche modo funzionano dice boh e quindi gli mancheranno mai clienti e quindi io avevo l'opportunità di avere un idraulico del miracolo e invece ho la casa allagata però fanculo qui non ci mette piede come se mettere i piedi a casa tua fosse una cosa che a lei in qualche modo dice no non posso vivere una vita senza entrare più a casa di Peppina giusto? invece a lei non gliene frega un cazzo e quindi tu ti stai facendo tutto questo film per i cazzi tuoi perché? perché hai la percezione di un credito percezione di un debito per assonanza concettuale possiamo vedere quindi che la percezione di un credito genera rancore la percezione di un debito paranoia questo per darvi un ancoraggio sulla cosa dice quando ho quella sensazione prova a vedere gli stai facendo un dispetto a quello dici no affanculo cazzo ah no se c'è Peppina io non vengo avete mai sentito? c'è Peppina io non vengo come se la tua presenza fosse in qualche modo desse pregio per cui dici eh no è o me o lei e dici quella che non rompe i coglioni o no uno potrebbe dire quella che non rompe i coglioni venga si potrebbe dire così lei mi deve oppure ah no 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 io lì non vengo perché giusto? no no non vengo qua a lezione perché no mi sento a disagio no perché perché le persone sanno li stanno veramente cioè sterilizzando ma sono eventi realmente a cui ho realmente assistito purtroppo questi purtroppo si fa per dire nel senso che è la meccanica con cui funziona il babbano certo non accorgersene è una cosa che per me è ancora misteriosa è talmente evidente quanto ti fa stare di merda giusto e quindi se stai di merda può essere solo lui e visto che stanno le illusioni sto di merda per niente no sono sai le conseguenze logiche uno trae dici come faccio a stare bene ok analizziamo perché sto male perché sto male anche rancore è mentire a se stesso e beh perché allora fammi un esempio di rancore uno qualunque a svegliare presto la mattina invece che dormire fino al mezzogiorno ad esempio non sei molto specifico no ti chiama che cazzo ne so a tua madre per dire oh guarda che a scuola è alle 8 e ce l'hai con lei perché che credito hai nei suoi confronti in questo caso cioè la tua la tua ragione oggettiva e algebricamente dimostrabile è non mi deve disturbare fammi capire è quella non mi devi disturbare quindi qualcosa dentro di te ha evocato questa cosa ben sapendo ben sapendo che prima o poi qualcuno sarebbe venuto a svegliarti giusto è perché devi andare a scuola quello lo sai anche te no o no e quindi l'hai creato ad arte questa cosa si o no a questo punto ce l'hai con tua madre o con chi che sia perché ti ha svegliato l'ha fatto nel tuo interesse naturalmente perché se no se perdi la scuola ti bocciano o no ma tu invece ritieni che il tuo interesse sia non mi devi disturbare così è un oggetto non mi devi disturbare tu lo sai quella sera quando vai a dormire che la mattina ti sveglierà giusto e quando arriva le dici non mi devi disturbare stronza giusto ma tu sai che lo farà alternative non vuoi avere quel problema ah puoi andare a vivere da solo ma anche lì ti devi svegliare devi cercare alternative per cui uno non ti sveglia però tu continui a rimanere lì ben sapendo tutte le sere che vai a dormire che verrai svegliato la mattina e che tu proverai il rancore per quella ragione ok vediamo un po' la razionalità di questo lo vedi l'inconsistenza totale giusto cioè tu avresti dici guarda io ho una vita me ne frega un cazzo di ta 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 io una cosa non voglio essere disturbato la mattina giusto sceglierai un luogo e in modo che non dove nessuno viene quindi sarai prenderei reddito di cittadinanza non andrai sicuramente a scuola ne prenderai impegni in quel momento giusto e se hai un gatto e no lo devi dar via perché sennò gli devi dar da mangiare e ti viene a disturbare anche il gatto in poche parole ti potresti mettere in quelle condizioni invece tu che non vuoi essere disturbato dici vai in mezzo a una discoteca di trapper che funziona a 24 ore su 24 e dici fanculo state zitti non mi dovete disturbare questo è quello che fa il babbano cioè non è una cosa su lo vedi l'esempio cioè tu ti metti nelle condizioni per cui quella cosa accada e poi ti lamenti di quella cosa creando un debito o un credito questo è come funziona il babbano puoi dire che il babbano è completamente stupido cioè un babbano se fosse intelligente e quello fosse il suo scopo non voglio essere disturbato cazzo madonna ma direi che ci sono infiniti modi per poter trovare il modo di non essere disturbato la mattina e tutto il resto ci sono invece il babbano che cosa fa va esattamente dove sa che sarà disturbato dicendo che non vuole essere disturbato e quindi lamentandosi di quello è un figo eh e lo fa anche a faccia tosta cioè lì così eh dice no cazzo oh zitti zitti tutti e guardano ma che cazzo what the fuck no guardano sono un po' anglofoni anche i trapper lui lo fa per esistere quella è la sua logica nel movimento che fa per esistere lui si muove con un obiettivo che è inconsistente cioè tu dimmi nella vita che obiettivo è non voglio essere disturbato cioè che vuol dire la stupidità gli impedisce di vedere che è se stesso cioè che facendo che quel movimento porta anche lui alla morte oltre che il corpo ma ragazzi d'altronde se non fosse così sarebbe tutte le cose che vengono fatte a detrimento del sistema somatico biologico e psichico cioè sarebbero incomprensibili veramente se non ci fosse il babbano a spiegare queste cose il babbano crea situazioni le crea lui le situazioni e poi si lamenta della situazione ma perché l'ha fatto apposta quella in gramma ha bisogno di determinate di determinate circostanze che devono essere create attraverso la funzione del mentire secondo l'etimologia che abbiamo letto per poter giustificare la sua presenza se no cioè perché la situazione è creata pom pom porte che sbattono gr 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 ecco tu non mi baci non mi hai dato il bacio della buonanotte avevo paura di avvicinarmi o no no perché però è sempre così ok ma non puoi dire che oggi non è vero che ero incazzato incazzata quello che è un filmato dice guarda c'è un filmato con l'audio gr 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 pom dici allora ti risponde cioè arrivereva a dire sì in effetti è vero ho avuto un atteggiamento di merda scusami no e in effetti in natura quando due vogliono tac tac ci sono dei segnali o no che vengono mandati da una parte all'altra giusto che cos'è quello stai mentendo stai lamentando di una cosa creando tu stesso quella cosa anche nell'esempio che ha fatto lui lui sa quella mattina che quando andrà a letto quando andrà a letto quella sera sa che la mattina verrà disturbato lo sa è pronto se guarda bene la sensazione che prova c'è una sensazione di disagio di rabbia già si sta si sta facendo tutti i film di come risponderà e vedrai che sotto sotto in fondo in fondo c'è la paura perché è quella che ti fa eiettare tutto tutto questo è la funzione del mentire interessante no quindi il mentire è la dinamica principale del babbano a questo punto secondo questa definizione è la dinamica fondamentale che lo fa funzionare se lui non potesse fare quello non potrebbe funzionare perché i fatti sono fatti giusto? se lui fosse nell'impossibilità di ridefinire quello che vede o di definirlo arbitrariamente senza indagare il vero significato di quello che ha visto perché se io vedo un fenomeno mi possono venire dieci possibilità e vado però una volta che vado indago e lo scopro cosa è successo veramente è proprio per quello che non lo faccio se lo dovessi fare scoprirei che sono un coglione giusto? e invece no io ho ragione il mentire possiamo dire che è la forma concettuale più comprensibile che il babbano utilizza per disperdere rilasciare potenza ci siamo lui dice vabbè ma quindi cazzo l'uso della mente per evocare immagini è afflitto no è un uso corrotto naturalmente quindi potremmo dire evolvendo il concetto che c'è qui in modo tale da distinguere i due fenomeni che immaginare è un processo creativo mentire è un processo dispersivo è la stessa cosa fatta da due enti diversi benché ripetiamo l'origine della parola in realtà non distingue i due fenomeni questi due fenomeni si distinguono in base a quello che stiamo facendo giusto quindi mentire bugia è doloso abbiamo visto giusto la menzogna è diciamo possiamo dire che è passiva è reattiva cioè tu lo fai verso te stesso per convincerti di qualcosa per poterti convincere di questo qualcosa devi regolare la bilancia in un modo a te conveniente che in poche parole in quell'operazione tu devi risultare quello ok e quindi come fai a farlo evocando crediti e respingendo i debiti tutto questo è attraverso quella funzione giusto una funzione che deve escludere tutta una serie di elementi che il sistema ti propone ti potrebbe proporre per esempio appunto trovare una soluzione la perpetuazione del problema e di quella situazione è lo scopo assoluto c'è la possibilità che la persona possa cambiare idea no perché lo scopo è proprio evocare quella cosa quindi non te la posso togliere se te la tolgo tu comunque o anche se provo a togliertela davanti all'evidenza non cambierai idea se potessi togliertela meccanicamente perderesti l'ancoraggio per ragioni diciamo così purtroppo mentire a volte è il tuo unico modo di sopravvivere è triste vero? da un punto di vista umano è triste o no? te la racconti paranoico se la racconta anche rancoroso se la raccontano o no? è triste o no? ma Grazie.